Cosa c'è di così carita Dio nel vedere un uomo che muore nel dolore più straziato? Nel guardarlo contorcersi nella ricerca d'aria e non fare nulla? Perché ha deciso che tutti gli uomini debbano ottenersi a questo nostro Dio? Perché non possono credere in qualcosa di diverso? Chi ci dà il diritto di pensare che siamo sempre sonde giusto? Siete qui? Auferianni mia! Chi c'è? Ci siamo tutti! Perché sei in questo posto dove l'avereo lasciato in pace e risfruttato? Non è così semplice! Non tutti la pensano! Ho! Si! Grazie a tutti. Grazie a tutti.